Nell'entroterra siciliano, tra Castellamare del Golfo e Gibellina, sorge Calatafimi, antico borgo arabo edificato attorno al castello di Eufemidi. Qui troverete Casale degli Aranci, il luogo che stavate cercando per trasformare i vostri sogni di nozze in realtà. L'affascinante location mette a disposizione un ampio salone con tavolo imperiale, che vi accoglie in un'atmosfera antica ed elegante, perfetto per ricevimenti di medie e di grandi dimensioni. Al suo esterno potrete usufruire del suo suggestivo patio, la corte, la zona aperitivo a bordo piscina per creare bellissimi ricevimenti all'aperto nei mesi più caldi. Lo staff di Casale degli Aranci si contraddistingue per professionalità ed esperienza, per questo l'organizzazione del vostro giorno sarà curata nei minimi dettagli, fornendo un servizio personalizzato secondo i vostri desideri e le vostre necessità. La cucina di Casale degli Aranci vi proporrà il meglio della gastronomia locale e regionale, dandovi la possibilità di allestire ricchi buffet e offrire ai vostri invitati un'esperienza culinaria piena di sapore e autenticità.